Grazie, voglio chiamare l'attenzione del signor Egno Piccaluga. Ecco, grazie. Sì, specifichiamo, lui è un ingegnere, quindi insomma per chi non lo conosce, e quindi ecco, come tale ci spiegherà in termini anche appunto più tecnici che cosa comporta e di che cosa si tratta appunto questo impatto ambientale di cui appunto stiamo parlando. Prego. Buonasera, tanto ringrazio questi ragazzi che si sono preso la prega di organizzare questa manifestazione così importante, importante per tutta la cittadinanza, peccato che tutto sommato siano i pochi quelli che frequentano questo tipo di consenso, invece ci riguarda tutti quanti ed è estremamente importante perché riguarda addirittura l'aria che respiriamo. A questo proposito, proprio come ingegnere elettronico, ho tutta una serie di strumentazioni, fra cui un apparecchio per misurare proprio l'inquinamento dell'aria. Questo apparecchio misura il numero di parti per litro di inquinamento presenti nell'atmosfera, no? Allora, casualmente, misurai, insomma, l'inquinamento di vari punti della città e in effetti, vedi che questo cambiava molto, scusa, questo inquinamento cambiava continuamente. In alcuni giorni, quando il vento arrivava da nord, l'aria era molto pulita e si arrivava a 5.000 parti per litro, cioè 5.000 parti inquinanti per litro di aria. Un inquinamento molto buono, diciamo, visto che si poteva arrivare anche a 20.000, 30.000, anche un massimo di 50.000. Però cosa succedeva? Quando il vento arrivava da sud, da sud, cioè dalla stradale 16, l'inquinamento passava da 5.000, 20.000, 30.000, arrivava a 900.000, 20 volte più del massimo consentito. Questo è estremamente importante, perché questa è l'aria che noi respiriamo. Respiriamo a volte, quando l'aria arriva da sud, un inquinamento 20 volte superiore al massimo consentito. Questo significa cancro in polmone, significa problemi di ogni genere, problemi di qualità, problemi per gli anziani, per i giovani, per quelli che vanno a fare i ginnasti che magari respirano il veleno anziché respirare l'ossigeno. Questa manifestazione è importante proprio per questo, perché poi abbiamo approfondito insieme al maresciallo della finanza Domenico De Maio, questa problematica di tutte le centrali, che ci sono centrali di compostaggio o la centrale elettrica, siamo tutti, diciamo, dispositivi industriali che producono un'enorme quantità di ossigeno, l'ossigeno che noi dovremmo respirare, invece se lo respirano le apparecchiature e ci restituiscono un veleno potentissimo che è l'anidride carbonica, ma insieme all'anidride carbonica un'infinità di altre porcherie che vanno nell'ambiente e vanno a fare quelle famose parti per litro dell'inquinamento. In effetti la linea, diciamo, che va verso il sud, che parte da Foggia e viene verso il San Zeglio, porta tutta una serie di centrali, una sta a Lucena, un'altra sta vicino Foggia, l'altra sta sulla Statale, fino alla centrale elettrica, quella, diciamo, a metano, che ognuno di queste produce, diciamo, migliaia, centinaia di migliaia di tonnellate. Vedete voi, ho alcuni dati, no? Tutte queste messe insieme, queste centrali. Anidride carbonica 16.429.000 quintali all'anno, pare a ogni giorno 2.724.000 metri cubi, ogni giorno, di anidride carbonica, e forse anidride carbonica ci metterei la firma, perché il problema è che c'è ben altro, c'è ossido di carbonio, l'ossido di carbonio, che è un'anidride carbonica più ridotta con un solo ossigeno, ha una proprietà terribile, impedisce la respirazione, mentre l'anidride carbonica ci avvelena, l'ossido di carbonio impedisce addirittura che venga assorbito l'ossigeno. Poi ci sono formadeide, particolate e altre inquinanti, ce ne sono 108.000 quintali all'anno, 108.000 quintali all'anno, sono quantità enorme, che vengono nella nostra atmosfera e poi finiscono nei nostri polmoni. E poi naturalmente il problema non è sotto questo dell'aria, queste centrali, spesso vengono coinvolti in traffici legici di rifiuti, ma traffico e lecce di rifiuti non significa una cosa che è poco lecita, quasi quasi fosse un fatto penale. Traffico e lecce significa a volte diciamo componenti radiattivi, quindi diciamo anche roba dismessa dagli ospedali, carica di radiazione, che hanno un effetto terribile non solo sull'aria se destiniamo, ma sull'invinamento in generale. a questo punto noi ci chiediamo che studi sono stati fatti e di impatto ambientale sul territorio e sulla popolazione per poter posizionare queste centrali, perché è importante questo posizionamento delle centrali, perché mentre da sud arriva il vento di Scirocco che arriva proprio su San Severo, e quindi segue tutta quella linea di centrale e poi si riversa sulla nostra città. Per esempio, se fosse stato fatto uno studio serio, queste centrali potevano essere situate a destra, verso San Marco. Da San Marco non arriva verso San Severo praticamente mai nessun alito di vento, per cui un'eventuale centrale situata in quella posizione non avrebbe avuto un impatto importante sull'aria che noi respiriamo. ecco come è importante il fatto di studiare qualcosa anziché di fare solo interesse, qualcuno ha un terreno sulla via di Foggia dove fare una centrale, benissimo, si va tutti in quella direzione perché qualcuno ci deve guadagnare anziché badare all'aria che la gente deve respirare. Perché non è soltanto un russo di aria e ossigeno da respirare, ma una qualità di vita a volte una qualità anche di morte, perché alla fine finiamo per fare una brutta fine respirando queste grandissime porcherie. Poi c'è un altro fatto che naturalmente per esempio qua si parla di centinaia di tonnellate di rifiuti che ognuno ha il permesso di gestire e di smaltire, ma in effetti qua bisogna di centomila tonnellate. Nessuno controlla e nessuno può controllare perché questi centomila non diventano un milione di tonnellate. Già così come sono le cose, già andremo a finire a smaltire dieci volte i rifiuti che noi produciamo come città. E perché dobbiamo smaltire i rifiuti di mezza Italia? Certo, è un po' esaggiato di mezza Italia, ma insomma quasi il rifiuto di un terzo di tutta la voglia dovremmo smaltire noi e smaltire, ripeto, non significa produrre magari un compost che poi va a fare da confine, si producono delle porcherie piene di sofassi, non so se sapete cosa sono i sofassi, sono quelle sostanze chimiche che fanno i rivestimenti delle padelle ma anche che rivestono tanti prodotti, tanti abbigliamenti, tante stoffe, che ne sono migliaia di queste sostanze qua, di questi composti che poi quando vengono disperse nell'ambiente diventano diciamo nanoparticelle che fanno un inquinamento il più terribile di tutti perché non vengono neanche intercettate dal fegato, arrivano lì e non vengono smaltite quindi restano, si accumulano nel nostro organismo producendo un avvelenamento il più terribile di tutti. Non so se qualche volta bevendo alla bottiglia dell'acqua avete sentito un cattivo odore o un particolare odore della bottiglia della plastica, pensate che quelle bottiglie di plastica poi triturate, seccate dal sole diventano, ce le respiriamo e vanno a finire sempre dentro di noi, vanno in circolo, vanno ai reni, vanno a fegato ed è un fatto reale, ma se in una città come la nostra abbiamo una quantità enorme di inquinamento di quel tipo è chiaro che ne pagheremo tutti quanti le conseguenze e quando apriremo le finestre per far cambiare l'aria è meglio che non le apriamo proprio le chiudiamo e ci respiriamo l'aria viziata di casa perché quello che verrà da fuori la mattina sarà ancora molto peggio quindi il problema di cui si occupano questi ragazzi e a cui va il nostro ringraziamento è di estrema importanza e riguarda, ci riguarda tutti quanti estremamente dovremmo occuparci un po' più attivamente tutti quanti. Grazie a loro e grazie a loro Grazie, grazie ringraziamo di cuore l'ingegner Ennio Piccaluga